Le prime notizie di venerdì 25 ottobre. Cinque persone sono indagate a Brindisi nell'inchiesta su una presunta compravendita di voti nelle amministrative 2023. La Procura ha disposto il sequestro dei loro telefonini che sono stati affidati a un perito. Per il momento non ci sono politici coinvolti, ma attraverso le chat si spera di individuare che avrebbe pagato 30 euro a voto tra gli indagati, il capo di una banda che rubava auto. Nuova intimidazione al Jeep di Lecce, Maria Francesca Mariano, da oltre un anno sotto scorta per le minacce di morte ricevute, nell'aula in cui era in corso un'udienza è stata trovata una sua foto ritagliata da un quotidiano locale e circondata dal disegno di una bara con le croci. Avrebbe abusato delle due sorelline all'epoca di 9-10 anni con il ricatto di lasciarle giocare con la Playstation solo se lo avessero accontentato. Il fratellastro è indagato per violenza sessuale. I fatti sono accaduti tra il 2017 e il 2022 in un comune del nord Salento. Le due sorelline mercoledì sono state sottoposte ad ascolto protetto nel corso di un incidente probatorio. Un incendio si è sviluppato ieri all'ingresso del centro agroalimentare di Fasano coinvolgendo alcune cassette in legno e plastica accatastate per poi propagarsi agli alberi vicini. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco, non è esclusa l'origine dolosa. Falsi crediti maturati su lavori edili mai effettuati e relativi ai mobili che non esistono. Una truffa ai danni dello Stato, pari a 52 milioni di euro, messa a segno usando illecitamente i bonus facciate, è stata scoperta dalla finanza di Barletta. 14 le persone indagate, sequestrati beni per lo stesso valore della presunta truffa. Sei detenuti del carcere di Lecce sono stati trovati in possesso di telefonini e ora sono indagati dalla procura. I cellulari erano nascosti nei calzini appesi sullo stendino o nelle fessure dei muri delle celle sulle quali erano state incollate immagini sacre. Nuovo assalto di Naimitardo a un bancomat, questa volta allo sportello dell'Unicredit di via Bruno Buozzi nella zona industriale di Bari. L'esplosione con la tecnica della marmotta ha provocato gravi danni. I ladri però sono fuggiti a mani vuote per l'arrivo dei vigilantes. Ha travolto con l'auto e ucciso volontariamente il cane di quartiere. La comunità di Uggiano Montefusco, frazione di Manduria, è in subbuglio per la morte di Ettore, il randaggio ammazzato da un pick-up. La scena è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza e il video è diventato virale. Il conducente, un 62enne di Manduria, è stato individuato e denunciato. Ludovico Vaccaro, dal 2017 procuratore della Repubblica di Foggia, è stato indicato all'unanimità dal CSM come nuovo procuratore generale di Lecce. Prenderà il posto di Antonio Maruccia. Il Galilei Costa Scarambone, istituto di istruzione secondaria superiore di Lecce, ha vinto il World Best School Prize 2024 nella categoria Premio per la migliore scuola del mondo per il contributo a una vita sana. È la prima scuola italiana a ottenere questo riconoscimento. Meteo, in Puglia un'altra giornata di sole alternato alle nuvole, ma senza precipitazioni, solo in serata rischio di rovesci isolati sul Foggiano. Temperature miti con massime di 23 gradi, venti dai quadranti meridionali e mari calmi. Queste le prime notizie di oggi, appuntamento a domani.